Ciao Micaela, benvenuta al freelance camp. Grazie. Sei più muto. Ah scusa, eccomi. Allora, io oggi vi parlo di finanziamenti, che è un tema molto interessante e anche abbastanza difficile, diciamo. Mi presento brevemente. Io sono una business coach, una consulente di business e ho un passato da startupper. Per dieci anni, dal 2006 al 2015, ho fondato e gestito, ho fatto crescere due start up. Lo dico perché appunto la mia prima esperienza con i finanziamenti e con i programmi europei in particolare è stata proprio attraverso la mia start up. Quindi sicuramente avere un'azienda aiuta nell'accedere a certi programmi, ma non è una condizione sine qua non e anche da freelance si può accedere ai finanziamenti europei. In entrambi i casi non è semplice immediato, ma sono qui appunto per condividere la mia esperienza sperando che sia utile, che possa dare qualche spunto in più per chi desidera approcciarsi a questo mondo. E lo faccio proprio perché oggi come freelance io sono all'interno di un parternariato europeo per lo sviluppo appunto di un progetto. Quello dei finanziamenti io lo chiamo un magico mondo che a volte diventa tragico se non sappiamo appunto come gestirlo. Nel senso che i finanziamenti in generale e quelli europei in particolare sono una grande opportunità, sono veramente un'opportunità interessante per lavorare, perché appunto danno la possibilità di entrare in progetti e svolgere il proprio lavoro, di misurarsi con un ambiente internazionale, sicuramente di migliorare le proprie competenze, di fare networking e perché no anche di viaggiare, perché appunto molto spesso, anzi sempre insomma i meeting si fanno all'estero, insomma nei paesi che partecipano al progetto. Dicevo a volte questo magico mondo diventa tragico se non conosciamo le opportunità che possiamo cogliere, se non sappiamo come muoverci, cosa fare, se non facciamo networking nella maniera giusta, se non sappiamo comunicare il nostro valore e il nostro ruolo, se non siamo organizzati anche dal punto di vista finanziario e in un certo senso se vogliamo essere protagonisti, se vogliamo comandare. Adesso vi spiego un po' tutti questi punti che mi sono segnata per questo speech. Allora, prima di tutto dobbiamo, dicevo, conoscere le reali opportunità che possiamo cogliere. Quindi un consiglio che vi do e poi lascerò il freelance camp tutti i link di cui vi parlo, è quello di andare sul sito dell'Unione Europea per cercare tutti i programmi che sono attuati attraverso il quadro finanziario pluriannale che appunto sostiene le politiche dell'Unione Europea. C'è un sito che appunto vi segnalerò dove ci sono tutti i programmi di finanziamento, compresi gli importi, le basi giuridiche, le scadenze, i progetti attivi eccetera eccetera. Quindi conoscere questi programmi è fondamentale perché vi permette di capire quali sono ad esempio i programmi a cui voi potreste partecipare con le vostre competenze e per avere un'idea più chiara di quello che è il panorama dei finanziamenti, perché non tutti possono essere interessanti per quello che vi interessa proporre o per il lavoro che sapete fare. Ad esempio uno di questi programmi è il programma Erasmus Plus, è un programma che è focalizzato sull'educazione e la formazione ed è il programma europeo nell'ambito del quale io ho potuto presentare una mia idea che grazie alla BC, società di Torino che appunto lavora nei programmi europei e diciamo partecipa a diversi progetti europei, grazie alla BC ho potuto trasformare quest'idea che mi era venuta in un progetto, l'abbiamo iscritto, abbiamo ottenuto il finanziamento e ora io per i prossimi due mesi, scusate 24 mesi, lavorerò appunto allo sviluppo di questo progetto che si chiama Digi Freelancer e che se volete appunto potete seguire su LinkedIn dove ci sono tutti gli aggiornamenti, abbiamo appena iniziato ma dove pubblicheremo tutti gli aggiornamenti e dove vi chiederemo anche feedback di partecipare agli eventi, le iniziative eccetera. Digi Freelancer che è appunto un progetto finanziato da Erasmus Plus perché Erasmus Plus si occupa di progetti formativi e questo è un progetto finalizzato allo sviluppo di un incubatore non per startup ma per freelance. Quindi è importantissimo capire a chi rivolgersi oltre a capire quali sono i programmi che ci interessano. Io conoscevo una persona che si occupava di programmazione europea, una persona che è una collega, un'amica a cui come dire ho confidato la mia idea di progetto e che mi ha detto bello figata facciamo un progetto da sottoporre alla prossima call, scriviamolo assieme e facciamolo ed è andata bene perché appunto è stato finanziato. Quindi passaggio precedente, capisci quali sono i programmi che ti possono interessare per le tue competenze, per quello che puoi offrire, cerca di capire quali sono quelli dove puoi spendere le tue competenze e studia i partner che stanno già lavorando ai progetti finanziati da quel programma. Puoi partire dalle aziende italiane coinvolte però come dire si può anche andare a intercettare altri partner. Sui siti dell'Unione Europea ci sono tutti i riferimenti dei progetti che sono in corso, che sono già stati finanziati e questo è un ottimo modo per capire chi sono i partner. Perché come dire non è che magari facendo una ricerca su Google li trovate anche però non c'è nelle pagine gialle una sezione aziende che lavorano sui progetti europei quindi e poi non sempre fanno solo quello. Quindi andare sul sito dell'Unione Europea e tenere monitorati quelli che sono progetti già in corso può essere utile per entrare in contatto con le aziende a cui poi in un secondo momento magari proporre la vostra consulenza in qualità appunto di freelance. E qui veniamo all'altro punto importante quello del networking. Anche in questo caso fare rete è fondamentale. Nessuno vi porta a bordo se non vi conosce e non capisce che siete utili e interessanti per il tipo di progetto che sta portando avanti. Quindi al di là del contatto diretto cioè del vedere che azienda sta lavorando su quale programma su quale progetto e contattarla per dirgli guarda io mi occupo di queste cose facciamo qualcosa assieme. Un'altra cosa molto utile da fare è partecipare agli eventi che vengono organizzati all'interno di ciascun progetto e alle survey previste ai sondaggi alle iniziative che ogni progetto è tenuto a fare proprio per non solo per attività di dissemination del progetto ma anche per tutte quelle attività di analisi che servono poi per costruire il progetto stesso. Quindi sicuramente un primo passo molto utile è quello appunto di farsi conoscere attraverso questi eventi e attraverso queste iniziative e attaccare bottone diciamo con le persone che stanno facendo effettivamente progettazione europea che se vi conoscono e capiscono che avete delle competenze interessanti potrebbero essere proprio loro a invitarvi a partecipare a qualche progetto invece che essere voi insomma a chiedere di essere inseriti. E qui arriviamo alla questione del saper comunicare il proprio valore. Purtroppo o per fortuna molte aziende che lavorano sui progetti europei sono dei veri e propri progettifici cioè sono sostanzialmente aziende che fanno solo progetti europei quindi sono molto focalizzate sulla parte metodologica sanno come accedere ai finanziamenti però spesso non hanno i contenuti quindi questo è un'opportunità e un rischio nel senso che prima vi parlo del rischio il rischio è che essendo concentrate sul progetto il loro obiettivo è appunto prendere il finanziamento poi non significa che si disinteressino completamente di quello che succede però a volte diciamo appunto il loro scopo è prendere il finanziamento lavorare per i 12 24 mesi in cui si sviluppa e poi diciamo di quello che succede al progetto stesso alcune aziende si disinteressano fortunatamente poche non ne ho conosciute molte nella mia vita però qualcuna sì e quindi questo diventa un problema perché quando siamo coinvolti in un progetto non essendo appunto focalizzate sul mi prendo il finanziamento e basta ma magari abbiamo voglia no di che questo progetto diventa realtà che che sia funzionale che sia qualcosa di concreto è chiaro che diventa un problema se invece lavoriamo con qualcuno che ha solo quell'obiettivo lì di prendere i soldi e di portare a termine la progettazione ma poi quello che succede succede in realtà è anche una grande opportunità perché come freelance possiamo offrire contenuti ed esperienza nel settore in cui si sviluppa il progetto che è un settore dove spesso queste aziende specializzate in finanziamenti europei non hanno nessuna competenza cioè appunto come dicevo sono molto bravi nella metodologia nel project management che è fondamentale per portare avanti il progetto non solo per presentarlo ma poi non hanno i contenuti e questo è molto importante per i freelance che invece per esperienza credo che abbiano proprio contenuti da vendere e quindi questo è un punto assoluto che può essere fondamentale per comunicare il valore che ciascuno di noi può portare come consulente all'interno di un progetto europeo. L'altra cosa da tenere in considerazione è l'organizzazione e la pianificazione con i finanziamenti europei e con qualsiasi altro tipo di finanziamento pubblico vi dico chiaramente che non vi comprerete mai la villa in Sardegna o insomma ovunque la vogliate comprare diciamo che alcuni progetti sono vantaggiosi economicamente altri un po' meno però diciamo sulla bilancia di quello che prendi c'è da mettere anche la grandissima esperienza al networking le opportunità che si aprono e poi devo dire che comunque non stiamo parlando di compensi da struzzini ma stiamo comunque parlando di compensi estremamente dignitosi solo per farvi un esempio uno dei progetti a cui ho partecipato con la mia start up aveva un budget di 450 mila euro quello qui in cui sono coinvolta oggi come freelance ne ha 250 mila quindi comunque anche i budget sono diversi le ore uomo a disposizione magari sono meno il come dire il compenso che va al freelance o al consulente è comunque dignitoso però diciamo non ci si arricchisce è vantaggioso dal punto di vista che avete 24 mesi di solito di lavoro assicurato non full time tendenzialmente però significa che come se aveste un cliente in più e un cliente che è un bravissimo pagatore nel senso che l'unione europea i soldi te li dà quindi non dovete mandare avvocati lettere minacciose per vedere le vostre fatture pagate l'unica cosa e qui mi rallaccio al discorso della pianificazione finanziaria i soldi non arrivano subito quindi tendenzialmente arrivano con tempistiche un po' più lunghe io ho iniziato a lavorare a novembre effettivamente al progetto probabilmente la prima fattura effettivamente la staccherò a marzo però diciamo che questo appunto all'interno di una programmazione ben fatta non crea grossi problemi e dall'altro lato appunto ha il vantaggio che dicevo che questi soldi sono sostanzialmente sicuri e arrivano senza alcun dubbio. L'ultimo punto che mi interessava sottolineare perché credo che sia faccia parte insomma del pacchetto perché non è solamente una questione tecnica capire come entrare all'interno di un progetto europeo ma è anche una questione di se vogliamo caratteriale no dobbiamo ricordarci che i progetti europei sono parternariati quindi nei progetti europei sono coinvolti 5 6 7 8 partner europei che vengono appunto da tutta l'Europa e anche se avete avuto voi l'idea del progetto non potete fare come vi pare cioè sostanzialmente non siete a voi a comandare all'interno del parternariato ma il progetto viene sviluppato appunto con gli altri partner e qui appunto bisogna tenere in considerazione tutte anche le questioni che hanno toccato le persone che mi hanno proceduto oggi qui al freelance camp nel senso che appunto ci sono anche questioni di linguaggio culturali eccetera che vanno tenute in considerazione oltre a tutte quelle regole e quelle metodologie che sono dettate dall'Unione Europea. Quindi non siete solo voi ad avere voce in capitolo ci sono altri partner coinvolti bisogna condividere un obiettivo comune che però a volte come dire non è sempre lo stesso vi facevo prima l'esempio ci sono le aziende che hanno come obiettivo quello di prendere il finanziamento e aziende o freelance che invece hanno l'obiettivo di fare un progetto che duri nel tempo quindi che duri anche dopo il finanziamento europeo. Quindi dovete prepararvi a gestire la cosa devo dire che io sono all'inizio di questo nuovo progetto e le mie esperienze passate non sono state difficoltose da questo punto di vista. Sono state diciamo magari l'inizio più difficoltoso nel senso che chiaramente come in tutte le situazioni dove ci sono persone che provengono da ambienti differenti bisogna conoscersi misurarsi un attimino per poter lavorare bene insieme però appunto ci sono alcune cose che vanno tenute in considerazione. Per esempio una cosa che per cui volevo infilarmi due forchette negli occhi è stato il fatto che il logo del progetto lo abbiamo dovuto scegliere per alzata di mano e questa cosa mi ha destabilizzata perché non credo nella democrazia quando si parla di grafica e comunicazione ma diciamo questo appunto era una nota di colore che abbiamo superato abbastanza facilmente i partner hanno scelto secondo me cioè io volevo scegliere un altro logo e alla fine però diciamo è andata bene così però ecco questo volevo che fosse anche un elemento diciamo più culturale da tenere in considerazione oltre a quelli un po' più tecnici e io niente avrei finito qui insomma con il mio speech quindi se avete delle domande magari. Grazie Micaela è molto molto interessante davvero sono opportunità a cui difficilmente pensiamo da freelance ma in realtà non sono affatto trascurabili poi i tempi effettivamente lavorare comunque con istituzioni qui Patrizia ricordava anche il lavoro con partner regionali nazionali che anche quella dei tempi richiede una pianificazione finanziaria accorta ecco assolutamente sì se posso solo aggiungere una cosa in realtà poi dipende anche dai progetti nel senso che quando ho partecipato io come startup e quindi come partner non come freelance io i miei consulenti freelance li ho pagati prima di ricevere i soldi dall'Unione Europea quindi a volte si trovano aziende eh sì anche noi abbiamo queste cattive abitudini lì mentre ho visto un altro commento che chiede un po' quali sono il tipo di figure richieste per la mia esperienza allora sicuramente a malincuore devo dire che la comunicazione nei progetti europei viene considerata pochissimo quindi in realtà è uno spiraglio che vi potete ritagliare nel senso che tutte le attività legate alla comunicazione dei progetti eccetera vengono un po' prese magari più sotto gamba dai partner che sono invece più concentrati sui loro temi su eh sul project management su cose di questo tipo quindi sicuramente tutto quello che riguarda eh la realizzazione della comunicazione gli eventi eccetera eccetera è sicuramente utile però poi dipende anche dal dal programma Erasmus Plus è un programma che riguarda l'educazione la formazione quindi eh come formatori eh per esempio ci sono grandi opportunità ad accogliere in questo senso quindi in realtà le le competenze richieste possono essere diverse senza togliere che invece se avete competenze come project manager potete eh invece fare proprio quello no e quindi proporvi alle aziende per gestire il progetto eh che dal mio lato è la parte forse un po' più noiosa ma so che esistono persone che che amano il project management una scuola di project management eccellente in digital update quindi diciamo formiamo talenti no no certo che sono assolutamente necessari per per far sì che i creativi possano mettere a terra portare al termine i progetti Michela ti ringrazio poi ci aggiornerai nei prossimi mesi sull'evoluzione della tuo incubatore per freelance grazie mille a voi grazie mille a voi grazie mille a voi grazie mille a voi grazie mille a voi